sa prova sa allora cominciamo subito abbiate pazienza vediamo se mi dà il tutto siamo in privato bene sa prova si si sente ok allora salve cari amici eccoci giunti a un altro video allora benissimo allora chi vi parla è sempre alessio evangelisti siamo felici di tornare nuovamente con voi in un video improvvisato benissimo allora di cosa parleremo in questa in questa giornata allora parleremo di un argomento molto importante eccolo qua questo qua beh vogliamo fare un pochino di profezia biblica in gloria a dio passata ma attuale allora e ieri sera prima di coricarmi ho letto un passaggio biblico in verità ne ho letti 3 4 tra cui ho letto ce l'ho qui davanti a me o la bibbia ho letto isaiah capitolo 21 e mi son detto per quale motivo non portare isaiah capitolo 21 e infatti in questa mattina gloria a dio porteremo isaiah capitolo 21 un argomento molto importante tutto altamente improvvisato quindi speriamo di ricordarci tutto cosa improbabile perché io tendo molto a dimenticare comunque va bene normalmente mi faccio uno schemino tipo parla di questo di questo di questo di questo poi io man mano che lo leggo so che devo parlare di quel argomento e quindi vado a parlare ora non ho nulla di appuntato quindi vediamo un pochino se riesco a ricordare tutte le cose che vorrei dire che poi alla fine non sono tante però siccome dovrò fare l'esposizione del capitolo poi alla fine sai parlando dicendo qualcosa sfugge sempre bene allora intanto ci troviamo davanti una realtà una realtà antica molto antica or sono 2500 anni 2600 anni 2700 anni allora molto attuale anche oggi la figura di elam ovvero di persia ovvero di iran bene anticamente si chiamava elam eccola qua si trovava al come dire al mezzogiorno quindi al sud al settentrione si trovava babilonia eccola qua allora quando noi arriviamo a un certo punto arriviamo a isaia quindi isaia capitolo 21 allora che cos'è isaia isaia è un profeta molto importante vedete lo testamentario risale circa al 750 720 avanti cristo abbiamo fatto un video che ora vi mostreremo eccolo qua che risale al 2017 dove noi contestiamo mauro biglino e il cattolicesimo e li smentiamo sul fatto del proto isaia deutero isaia qui ho scritto deuteo ha sbagliato poi lo andrò a correggere deutero isaia e trito isaia eccoli qua benissimo allora praticamente sia mauro biglino si avvale diciamo di una versione cattolica che io ce l'ho eccola laggiù ma adesso non la prendo allora una versione cattolica che sarebbe la bibbia di gerusalemme che dice che ci sono insomma più isaia bene noi con questo video lo abbiamo smentito poi lo metteremo giù in descrizione benissimo quindi noi vi consigliamo di vedere questo video qua molto importante ricordiamo che quando entrate nel nostro canale e diciamo pigiate parlo del primo del primo canale adesso dove sto facendo lo streaming diciamo è il numero 2 comunque il primo canale alessio 912 quando entrate in quel canale e pigiate sul cliccate sulla sulla voce video praticamente non vi compaiono anche scendendo tutti i video perché a un certo punto la piattaforma non te li fa più vedere quindi pensi che i video arrivano fino là in verità no ce ne sono tantissimi tantissimi di più sono quasi 450 video non te li fa vedere tutti quindi come si fa trovare un video in specifico niente a tentativi vai sulla voce cerca metti un nome no sull'oggetto che ti può interessare tipo israele peccato l'argomento insomma e vedi un pochino se riesci a trovare qualche cosa purtroppo questo è youtube benissimo allora vogliamo parlare invece di questo qua di questo che cosa è successo allora il contesto diciamo storico di isaia quando fa questa profezia ok la fa circa 300 anni prima circa il contesto geografico diciamo è questo perché poi che cosa succederà succederà che al tempo va bene adesso non entriamo in questo allora vogliamo leggere tutto quello che leggeremo che diremo che faremo lo leggeremo lo diremo lo faremo sempre nel nome del padre del figlio dello spirito santo benedetto in eterno a me il signore guida tu il tuo servo padre nel nome di gesù benedetto in eterno a me allora qui dice isaia parlando dice allora il carico del deserto del mare allora colui viene dal deserto dal paese spaventevole a guisa di turbini che passano nel paese del mezzo di benissimo quindi ci dice che viene qualcuno di molto spaventevole e questo qualcuno viene dal mezzogiorno quindi viene dal sud e poi dice una dura visione mi è stata annunziata quindi qualcosa di terribile qualcosa di spaventevole gli viene annunziato al profeta isaia ricordiamo sempre che il signore ok non fa nulla di nascosto così è scritto e quindi il signore dice sempre quello che vuole fare ok ai suoi servi ovvero alla sua sposa diremo oggi ovvero alla sua futura sposa e dice il disleale ha trovato un disleale molto interessante questo molto spesso il signore utilizza un cattivo per affondare un altro cattivo infatti è scritto in timotio ingannando ed essendo ingannati vogliamo un attimino cercarlo in timotio lo vado a cercare nella mia bibbia allora si trova in seconda timotio capitolo 3 vediamo il verso se lo trovo si verso 13 dice ma gli uomini malvaggi e ingannatori procederanno in peggio infatti è scritto in apocalisse chi è santo sia più santo e chi non è santo chi è in più sia più in più e poi dice seducendo ed essendo seduti quindi chi seduce a sua volta viene sedotto e viceversa ovviamente chi seduce chi viene seduto scusate a sua volta seduce questo è molto chiaro quindi noi vediamo nella scrittura che molto spesso utilizza diciamo un come dire un ci sono due persone malvagie ok quando il signore vuole affondare un un malvagio utilizza un altro malvagio infatti la storia poi sempre stata questa è scritto in ecclesiasi 1 9 3 15 che la storia si ripete quando israele è diventato malvagio molto malvagio talmente tanto che si è messo a sacrificare neonati ai bali che cosa ha fatto il signore ha chiamato un altro malvagio malvagio che era babilonia quindi babilonia viene nella figura di nebuchadnezzar o nebuchadnezzar e prende e prende israele e conquista giuda tutto quanto e lo porta in cattività in babilonia per 70 anni tutto questo fu annunciato in più parti della parola di dio il primo come dire profeta che si impegnò molto in tutte queste profezie il più grande diciamo per quanto riguarda questa serie di profezie ovviamente geremia ma anche isaia ne ha parlato benissimo poi a sua volta babilonia quando persiste nel male eccetera 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 viene il signore suscita persia ovvero il vecchio elam per fare diciamo lo stesso lavoro ecco qui che il signore si usa di tutto si usa di tutti ma non per questo essere usati da dio è sinonimo ok di di essere approvati in qualche maniera dal signore no sono i frutti che palesano se la persona è da dio ovvero non era dio e quindi dice il disleale ha trovato un disleale e il guastatore ha trovato un guastatore vedete come lineare il dire e il fare per dio è scritto sono la stessa cosa e poi lo chiama per nome e gli dice sali elam media assedia quindi praticamente sta lanciando una professia futura poi dirà più avanti nei confronti di chi ovvero di babilonia questo lo dirà sotto dobbiamo leggerlo tutto infatti babilonia eccola qua si trovava in settentrione e la si trovava nel mesogiorno qui la vediamo un pochino meglio eccolo qua elam vedete nel golfo persico qua sotto c'era la come dire anche tutto quanto insomma questa è tutta quanta diciamo la foto antica questa è la vecchia mesopotamia che stava appunto tra i fiumi i primissimi fiumi che troviamo anche nella genesi eccoli qua questa è tutta quanta la peli la penisola mesopotamica eccetera 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 benissimo questo è quanto è molto importante vedete qui c'è la caldea qui c'è babilonia qui c'è elam al mezzogiorno e così via discorrendo quindi il signore già 300 anni prima inizia a fare una serie di previsioni una serie di profezie nero su bianco tra cui nominerà anche il nome di uno di questi elamiti ovvero ciro e dice sali elam sali media vedi infatti prima c'era l'impero medopersa perché si sono uniti questi due imperi ovvero l'impero persiano e l'impero dei media e dice assedia io ho fatto cessare ogni gemito perciò i miei lombi sono pieni di doglia dolori mi hanno colto simile a dolori della donna che partorisce vedete quindi qualcosa di grandissimo qualcosa di veramente terribile succederà in futuro dice il signore io mi sono scontorto per ciò che ho udito e mi sono smarrito per ciò che ho veduto il mio cuore smarrito orrore mi ha conturbato il vespro dei miei diletti mi è stato cangiato in ispavento ecco qui la paga del peccato e la morte dirà altrove mentre la tavola sarà apparecchiata ecco qui come precisa la parola di dio quando lancia le profezie praticamente il signore dice che la sventura arriverà all'improvviso all'improvviso mentre la tavola sarà apparecchiata quindi mentre si starà banchettando arriverà questa grande sventura guardate bene alla parola di dio è parola per parola c'è qui dice praticamente anticamente i re facevano questi grandi banchetti ed erano banchetti anche pieni di di lussuria di peccato di piaceri mondani pagani e quant'altro e quindi dice mentre questa tavola sarà apparecchiata e congiunzione le guardie saranno alla vedetta o veletta quindi mentre ci sarà questo banchetto delle guardie staranno alla veletta come dire che ci stanno a fare queste guardie alla veletta parla di assedio quindi mentre le le sa questa 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 città che adesso nominerà sarà assediata dentro ci saranno dei banchetti e il tuta avverrà all'improvviso e torna e dice si mangerà si berrà quindi mentre ci sarà questo assedio perché c'è la vedetta costantemente dentro i suoi principi berranno e mangeranno levatevi capitani ungete lo scudo perciò che così mi ha detto il signore va metti uno alla vedetta e annunzi ciò che vedrà ecco qui torna a dire che ci sarà un grande assedio e ci sarà la vedetta costante e che questa annunci quello che vedrà ovvero questa vedetta dovrà del continuo monitorare il tutto tra l'altro questa è una lezione anche per noi che siamo delle vedette e che quando vediamo il male la morte che sopraggiunge dobbiamo suonare la tromba ovvero lo shofar e degli videcarri coppie di cavalieri carri tirati da asini carri tirati da cammelli e considerò tutto ciò molto attentamente nel frattempo là dentro la tavola era apparecchiata e si mangiava bene e gridò come un leone io sto signore del continuo nella vedetta di giorno e sto in piede nella mia guardia tutte le notti quindi mentre loro mangiano mentre la tavola è apparecchiata loro hanno le vedette fuori notte e giorno per dire per gridare quello che succede perché carri di coppie di cavaliere carri tirati da asini carri tirati da cammelli sono all'assedio quindi un qualcosa di molto grande ecco sono venuti carri d'uomini coppie di cavalieri lo ripete e degli rispose e disse caduta caduta e babilonia wow 300 anni prima il signore dice che gli elamiti insieme i medi ecco qui avrebbero assalito babilonia e ti dice nero su bianco in che maniera sarebbe stata assalita questa babilonia e tutte le sculture dei suoi di sono state spezzate sono state gettate a terra ella è ciò che io ho adunato nella mia aglia per trebbiarlo io vi ho annunziato ciò che ho udito dal signore degli eserciti fino qua la parola del signore per quanto riguarda l'oracolo profetico sulla distruzione di babilonia antica che poi la storia si ripete perché babilonia proseguirà ma in maniera molto diversa poi lo vedremo a un certo punto passano gli anni molti anni e israele dal 720 avanti cristo si arriva al 586 avanti cristo un anno molto importante molto delicato perché nel 586 avanti cristo nabucodonosor finalmente questo è scritto negli ultimi penso sia proprio l'ultimo capitolo di geremia l'assedio ultimo e finale della distruzione no se l'ultimo capitolo di geremia il 52esimo potete leggerlo nell'ultimo capitolo praticamente troviamo che nabucodonosor assedia appunto gerusalemme per l'ultima volta perché già era stata assediata prima e praticamente lì c'è la prima distruzione del tempio del primo tempio di salomone poi verrà il secondo tempio ma il secondo tempio sarà distrutto per mano di tito il figlio di vespasiano bene i romani insomma quindi praticamente quando il tempio viene distrutto avviene un'altra una seconda come dire fanno prendono tutti quanti gli ebrei lasciano nel paese solamente quelli più poveri i contadini eccetera eccetera e gli altri li portano a babilonia e così iniziano i 70 anni della cattività che sono stati appunto ben profetizzati da geremia bene a un certo punto la cattività si divide in due la prima parte la passeranno a babilonia la seconda parte a persia perché perché poi persia o elam e meda ovvero media quindi il come come dire il regno medopersiano invadirà babilonia in virtù di questa profezia perché a sua volta i babilonesi hanno grandemente bestemmiato nonostante sono stati visitati alla grande dall'eterno di dio bene prima di passare proprio al capitolo che ci interessa io qui nella mia bibbia eccola qua voglio portare la vostra attenzione a daniele prima di arrivare al capitolo che ci interessa che è il capitolo numero 5 non la voglio far lunga voglio andare a chiudere noi ricordiamo che daniele 1 noi abbiamo fatto diversi video su daniele molto interessanti per chi segue queste tematiche daniele 1 appunto inizia con nell'anno terzo del regno di gioia chim re di giuda nebucanestà re di babilonia venne contro gerusalemme l'assedio il signor diede in mano sua appunto gioia chim re di giuda una parte degli arredi della casa di dio una parte degli arredi della casa di dio e gli ricondusse nel paese di sinara eccetera 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 in mezzo a tutti questi c'era anche daniele vedi il verso 7 in capo degli unuchi cambiò appunto il nome a tutti questi questi ragazzi tra cui daniele pose il nome di bel sasar perché quando il nemico viene ti vuole cambiare il nome ovvero l'identità ma non glielo dobbiamo permettere a un certo punto nel capitolo 2 troviamo la statua ovvero il sogno di nabucodonosor il quale viene consegnato questo sogno niente meno che al più grande empio di tutti i tempi per quanto riguarda l'antico testamento il più grande anticristo per quanto riguarda l'antico testamento figura dell'anticristo ultimo moderno che dovrà avvenire e riceve un sogno profetico la statua la famosa statua che ci porta da quel momento babilonia fino ai nostri giorni l'ultima babilonia descritta in apocalisse capitolo 17 capitolo 18 questo è molto importante quindi noi vediamo che a un certo punto questo nabucodonosor riceve la rivelazione del Signore del cielo perché poi c'è tutta quanta la storia che conosciamo tutti quanti che a un certo punto questo nabucodonosor si insupervisce Dio lo colpisce ok? e praticamente lo fa diventare un animale no? e infatti mangerà l'erba come i bui mangiavano l'erba eccetera 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 bene poi alla fine dirà nabucodonosor dopo questa grande esperienza che lui fece dirà al presente io nebucanestar lodo esalto glorifico il Re del Cielo tutte le cui opere sono verità e le vie giudicio e il quale può abbassar quelli che procedono con superbia quindi noi vediamo che a un certo punto il Signore visita questa questa grande città piena di peccato gli porta la sua parola tant'è che lui riconosce almeno verbalmente che l'Eterno è l'Idio del Cielo creatore del Cielo e della Terra ora però a parole perché affatti non vediamo che questo nabucodonosor fece qualche cosa per liberare il popolo di Dio cioè lo conservò schiavo questa è una mia considerazione benissimo a un certo punto noi arriviamo al capitolo quindi 5 di Daniele quindi noi arriviamo al capitolo 5 di Daniele e troviamo Belsasar Belsasar era il come dire era il figlio di Nabonide perché alcuni contestano ma se il re non era Belsasar era Nabonide sì era Nabonide sappiamo che la storia ci racconta perché Nabonide spesso era assente e lasciava il figlio e il figlio era considerato re come il padre molto semplice non è difficile la parola di Dio non si contraddice a un certo punto ricordiamo tutto quello che abbiamo letto qua che praticamente gli Elamiti e i Media avrebbero assediato ok Babilonia eccola qua e l'avrebbero assediata come appunto mentre praticamente dentro ci sarebbe stata la tavola apparecchiata ok e contestualmente le guardie stavano alla vedetta passano i secoli Gerusalemme viene conquistata il tempio viene distrutto gli ebrei vengono deportati tra cui c'era anche il profeta Daniele eccetera 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 arriviamo a questo punto che Nabucodonosor era morto e si trovava appunto il re Bessasar e questo re Bessasar cosa fa? un grande convito a chi? a mille dei suoi grandi ecco qua ecco qua tavola apparecchiata e beveva del vino in presenza di quei mille ora Bessasar avendo assaporato il vino comandò che fossero portati i vasi d'oro e d'argento vasi d'oro e d'argento che Nebuchadnezzar suo padre aveva tratti fuori dal tempio che era in Gerusalemme che era stato distrutto a ciò che il re e i suoi grandi e le sue mogli e le sue concubine vi bevessero dentro possiamo fare il paragone spirituale con quelli che oggigiorno prendono le cose di Dio ovvero la parola di Dio e fanno della blasfemia nei confronti della parola di Dio cosa li aspetta a tutti costoro guardate sempre il lato spirituale allora furono portati vasi d'oro vogliamo farlo un pochino più grande che erano stati tratti fuori del tempio della casa del Signore che era in Gerusalemme e il re e i suoi grandi e le sue mogli e le sue concubine vi bevvero dentro e quindi ci sono molti oggi che usano la parola di Dio e danno a bere invece che la santità che promuove insegna la parola di Dio i piaceri le gossoviglie il denaro il vangelo della prosperità del benessere la mancanza di perdono ovvero una volta salvato sempre salvato attenzione essi bevevano del vino e lodavano i loro i di quanti con la parola di Dio in verità stanno lodando i loro di di argento di rame di ferro di pietra ora in quella stessa ora uscirono delle dita di mano d'uomo le quali scrivevano di rincontro al candeliere in sullo smalto della parete del palazzo reale e il re vide quel pezzo di mano che scriveva allora il color della faccia del re si mutò già l'uomo che non è da Dio quando vede la manifestazione del Signore vera ha paura e si spaventa e i suoi pensieri lo spaventarono e cinzi i suoi lombi si sciolsero e le sue ginocchia si urtarono l'uno contro l'altro tutto il potere che avrai ammassato su questa terra o pseudo uomo di Dio o massone o gnostico non ti potrà dar nessuna forza quando ti troverai davanti l'opera di Dio e davanti allo stesso Dio il re gridò ma di forza lo fece e gridò che si facessero venire chi gli astrologi i caldei e gli indovini già massoneria gnostici pseudo credenti rivolgono la loro attenzione ovunque meno che nella parola di Dio la quale ci annuncia i tempi che oggi stiamo vivendo ce li ha annunciati già a bantico nero su bianco e il re prese a dire ai savi di Babilonia i savi di Babilonia già il regno delle tenebre ai suoi savi ma i savi del regno delle tenebre non hanno la luce e quindi non portano luce chiunque leggerà questa scrittura attenzione era scritto in aramaico non che loro non la sapessero leggere certo che la sapevano leggere ma non la capivano non la comprendevano cioè sapevano che c'era scritto quello ma cosa significava perché poi quando lo vuoi leggere nel linguaggio originale capisci che quelle parole si comprendono no io uno magari non le sa queste cose no no si comprendeva ma si leggeva si leggeva che significava quello ma cosa vuol dire già molta gente legge legge la parola di Dio legge che c'è un padre legge che c'è un figlio legge che c'è uno spirito santo ma non lo comprende e quindi dicono sciocchezze e quindi chiunque leggerà questa scrittura e me ne dichiarerà l'interpretazione il problema era l'interpretazione era capire quello che voleva raccontare quella scrittura sarà vestito di porpora porterà una collana d'oro in collo sarà terzo signore nel regno già cosa ci fai con tutto il mondo se poi perdi l'anima tua infatti questo mondo passa e in in quell'ora mentre loro stavano mangiando e bestemmiando il dio erano assediati poi lo vedremo un pochino più avanti oltre che la storia ce lo racconta nero su bianco allora entrano tutti i savi del re ma non poterono leggere quella scrittura né dichiararne al re l'interpretazione allora il re Belsasar fu grandemente spaventato e il color della sua faccia si mutò in lui i suoi grandi ancora furono smarriti già davanti la parola vera di dio i savi i potenti del mondo dirà il salmo da dove viene la mia redenzione se alzo gli occhi ai monti ma la mia redenzione non viene dai monti dalle cose eccelse di questo mondo ma viene dall'eterno che va oltre le cose grandi di questo mondo perché questo mondo non può darti nulla e i grandi di questo mondo restano smarriti davanti all'eterno degli eserciti ora la regina ha le parole del re e dei suoi grandi entrò nel luogo del convito perché lo facevano a parte e fece motto al re e gli disse o re possi tu vivere in perpetuo i tuoi pensieri non ti spaventino il colore della tua faccia non si muti vi è un uomo nel tuo regno il cui è lo spirito degli di santi e al tempo di tuo padre si trovò cioè Nabucodonosor si trovò in lui illuminazione intendimento sapienza pari alla sapienza degli di e il re Nebuchadnezzar tuo padre o re lo costituì capo dei magi degli astrologi dei caldei e degli indovini conciossi a che in lui che è Daniele a cui il re aveva posto nome Belsasar volendo cambiargli la personalità gli possero il nome di uno dei loro di e nonostante tutto non riuscirono a cambiare la sua personalità egli fu sempre un uomo di Dio fedele al Signore e alla sua parola e quindi fosse stato trovato uno spirito eccellente di conoscimento di intendimento per interpretare sogni dichiarar detti oscuri per scioglierne gli enitmi ora chiamisi Daniele ed egli dichiarerà l'interpretazione allora Daniele fu menato davanti al re e il re fece motto a Daniele e gli disse sei tu quel Daniele quello dei giudei che sono in cattività i quali il re mio padre condusse di Giudea io ho inteso dire di te che lo spirito degli dii santi è in te e che si è trovata in te illuminazione intendimento sapienza eccellenza ora al presente i savi gli astrologi sono stati menati davanti a me affin di leggere questa scrittura e dichiararmi la sua interpretazione ma non possono dichiarare l'interpretazione della cosa ma io ho udito di te che tu puoi dare l'interpretazione sciogliere e nipmi ora se tu puoi leggere questa scrittura e dichiararmi nell'interpretazione tu sarai vestito di porpora porterai una collana d'oro al collo sarai il terzo signore nel regno ecco qui il terzo nel regno già perché il primo non era lui era suo padre a proposito di quelli che contestano non era lui non era lui era il padre appunto infatti il padre racconta la storia spesso mancava e lasciava il figlio quindi lui era il signore numero due ecco perché non gli dice il secondo perché se fosse stato il primo gli avrebbe detto il secondo ma gli dice tu sarai il terzo signore del regno vedete come la scrittura combacia tutta quanta benedetto e il santo nome del signore quindi il primo era Nabonide il secondo era Belsasar e lui sarebbe diventato il terzo allora Daniele rispose e disse in presenza del re tieniti i tuoi doni cavirai siamo pure assediati che ci faccio tra un po' vengono qui e ci ammazzano a tutti e da a un altro i tuoi presenti pur non di meno leggerò la scrittura al re già che ci ammazzassero pure ovvero che ci dessero tutto quello che ci vogliono dare noi non lo vogliamo pur non di meno noi dichiareremo al mondo agli apostati a tutti quanti qual è la volontà di Dio che non si dica che la chiesa ha taciuto perché il signore ha detto se la chiesa tace le pietre grideranno che non si dicono che la vedetta non ha suonato la tromba che la vedetta non ha avvisato che la vedetta non ha denunciato l'apostasia che non si dica che la chiesa è taciuta che la chiesa non ha difeso la parola di Dio che la chiesa non ha denunziato il male il peccato come hanno fatto tutti gli antichi profeti come ha fatto lo stesso signore Gesù come ha fatto lo stesso Giovanni il Battista che poi l'hanno ucciso proprio per questo per denunciare l'apostasia e la malvagità e come hanno fatto i dodici apostoli come ha fatto Paolo che addirittura è stato menato e stramenato per denunciare il male l'apostasia la menzogna degli greci e degli giudei che non si dica che noi abbiamo taciuto perché la chiesa di Gesù Cristo non ha taciuto e dichiarerò l'interpretazione o tu re il Dio Altissimo aveva dato regno scusate o tu re il Dio Altissimo aveva dato regno grandezza gloria magnificenza a Nabucodono sortuo padre e per la grandezza che egli gli aveva data a tutti i popoli le nazioni le lingue tremavano e temevano alla sua presenza tutti i popoli e la storia si ripete oggi nella nuova Babilonia tutti i popoli gli sono sottoposti in presenza egli uccideva chi voleva lasciava in vita chi voleva inalzava chi gli piaceva abbassava chi gli piaceva ma quando il cuor suo si inalzò prendendo il posto di Dio come leggiamo in Tessalonicesi che questo Empio prende il posto di Dio e dice che lui stesso è Dio questo lo farà anche l'anticristo uomo ma già oggi è in atto questo ma quando il cuor suo si inalzò e il suo spirito si indurì per superbire fu tratto giù dal suo trono reale e la sua gloria gli fu tolta fu scacciato d'infragli uomini il suo cuor fu renduto simile a quello delle bestie quello che vi ho detto prima e la sua dimora fu con gli asini selvatici e gli pasce l'erba come vuoi il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo finché riconobbe che Dio altissimo signoreggia sopra il regno degli uomini e che gli stabilisce sopra quello che gli piace ora tu Belsasar suo figlio non hai umiliato il tuo cuore con tutto che tu sapessi tutto ciò qui nessuno è privo della conoscenza del Signore tutti sanno chi è il Signore tutti sanno chi è Cristo Gesù a me viene da sorridere come alcuni genuamente dicono e non sto dicendo che non bisogna evangelizzare ma dicono no ma gli dobbiamo mostrare chi è il Signore tutti sanno chi è il Signore qui in Occidente tutti sanno chi è Gesù tutti sanno chi è la Bibbia che tu vai lì a strillargli in faccia nei marciapiedi a due centimetri dalla faccia queste cose le ho viste io che uno momenti momenti casca per terra con un megafono a Napoli questo è successo a due centimetri dalla faccia di uno che se becchi la persona sbagliata ti arriva un mal destro sul volto non è quello tutti lo sanno e non sto dicendo che non bisogna evangelizzare io lo faccio tutti lo facciamo non è questo ma intanto c'è modo in modo punto numero uno poi alcuni dicono Dio non ci ha mandato a mandare volantini e poi loro vanno con i cartelloni cioè non si rendono manco conto è quello che dicono e poi da quando a quando è peccato dare un volantino anzi il volantino anche se non converte nessuno qualora poi dico che converte ti dà la scusa di approcciare qualcuno e poi magari parlarci no ecco che ci pensi ma la gente di questo mondo tutta sa di di occidente tanti non hanno mai sentito parlare nei paesi islamici molto nascosti in quei popolini in quei paesini tanti non lo sanno ma la maggior parte tutti sanno chi è il Signore nessuno può dire io non lo sapevo sono pochissimi quelli che veramente non hanno mai sentito parlare ma poi ci penseranno i 144.000 a culminare tutto questo ripeto non sto dicendo che non bisogna evangelizzare sto dicendo un'altra cosa che le persone parliamo di occidente tutte sanno chi è il Signore tutte sanno che Gesù è morto sulla croce tutte sanno che il Signore Gesù è risolto il terzo giorno tutti sanno che cos'è bene che cos'è male che cos'è mentire che cos'è dire la verità che cos'è leggere la Bibbia e fargli dire una cosa falsa e invece che cos'è leggere la Bibbia e fargli dire quello che veramente dice tutti lo sanno ora con questo non significa che noi non dobbiamo evangelizzare non significa che noi non dobbiamo denunciare il male non significa che noi non dobbiamo denunciare il peccato perché noi dobbiamo fare tutte queste cose ma a prescindere di quello che dobbiamo fare e lo facciamo il mondo già le sa le cose questo sto dicendo spero di essermi spiegato bene ora tu Belsasar suo figliuolo non hai umiliato il tuo cuore con tutto ciò che tu sapessi tutto ciò tu lo sai che cos'è male che cos'è bene che Gesù è la via la vita è la verità tu lo sai anzi ti sei innalzato contro il Signore oh la gente si innalza contro Dio bestemmia Dio ma guai se bestemmia Satana guai se dice una parola contro Satana non sia mai sempre contro Dio guarda caso e non sto dicendo che si deve bestemmiare Satana sto semplicemente considerando un fatto e sono stati quindi anzi ti sei innalzato contro il Signore del Cielo sono stati portati davanti a te i vasi della sua casa così come oggi la Bibbia viene portata nelle logge massoniche per fare della Bibbia uno zimbello quello che vorrebbero fare loro se tu vai nelle logge massoniche trovi la Bibbia se tu vai dove si radunano gli ignostici gli ignosticini o gli ignosticioni c'hanno la Bibbia per fare di questa meravigliosa parola di Dio per bestemmiarla già ma non è una Bibbia in mano che farà di te un figlio di Dio e in quelli avete bevuto tu e i tuoi grandi le tue mogli le tue concubine e tu hai ordinato ai lodati gli di di argento d'oro di rame di ferro di legno di pietra i quali non vengono non odono non hanno conoscimento alcuno e non hai glorificato i Dio già prendono la Bibbia per i propri piaceri per le proprie gozzoviglie e non per glorificare Dio con la propria vita vivendo in pace e santità nella cui mano è l'anima tua e a cui appartengono tutte le tue vie allora da parte sua è stato mandato quel pezzo di mano che è stata disegnata quella scrittura ora questa è la scrittura che è stata disegnata questa è l'interpretazione delle parole Mene il Dio ha fatto ragione del tuo regno e l'ha saldata Tekel sei stato pesato alle bilance e sei stato trovato mancante peres il tuo regno è messo in pezzi ed è dato ai Medi e ai Persiani cosa abbiamo letto qua eccolo qua il carico dal deserto Elam e Media Elam e Persia Media e Media e qui dice Medi e Persiani 300 anni dopo allora per comandamento di Belsasar Daniele fu vestito di porpora portò in collo una collana d'oro e per bando pubblico gli fece dichiarato il terzo signore del regno tutto questo mentre si banchettava eccolo qua fece un gran convito a mille mentre si banchettava così come abbiamo letto qua prima allora non mi ricordo più dove sta il verso eccola qua verso 5 mentre la tavola sarà apparecchiata tutto questo è successo mentre la tavola era apparecchiata c'era il banchetto e la città però era assediata infatti poi leggiamo che in quella stessa notte in quella stessa notte mentre la tavola era apparecchiata in quella stessa notte mentre stavano banchettando in quella stessa notte belsassar re dei caldei cioè dei babilonesi fu ucciso e chi Dario il medo Dario il medo cioè ecco qua i elam e media persiani e media ok Dario il meda ricevette il regno lo conquistò Babilonia fu conquistata senza buttare giù un solo mattone del suo muro c'è tutta la storia che riuscirono a entrare attraverso il canale eccetera 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 essendo d'età d'intorno a 62 anni guardate come la parola di Dio è precisa volete i commentari biblici buoni andate alla Bibbia stessa la Bibbia è il miglior commentario biblico che possa esistere non ce n'è un altro pari fate riferimento sempre alla Bibbia e per capire se una profezia ha detto il vero perché ha detto il vero la profezia della parola di Dio dice sempre il vero ma siccome ci sono i miscredenti glielo dobbiamo mostrare glielo dobbiamo dimostrare non serve non è necessario fare altro che prendere i libri di storia infatti la storia conferma che tutto questo sia concretizzato chi conosce la storia sa perfettamente che tutto questo fior di storici hanno parlato di questo hanno parlato della conquista di Babilonia da parte dei Medo Persiani benedetto il santo nome del Signore interessante notare quello che volevo dire che stavo considerando come e ho finito stavo considerando come a un certo punto finisce Babilonia ma Babilonia continua infatti noi vediamo che Babilonia nel capitolo 2 di Daniele è come dire rappresentata dalla testa ok infatti se tu leggi ora non lo leggiamo per motivi di tempo se tu leggi il capitolo 2 di Daniele leggilo attentamente vedrai che Nabucodonosor riceve questo sogno da parte del Signore ma non lo comprendeva perché come già detto l'Empio non comprende la parola di Dio l'Ognostico il Massone l'Illuminati tutta sta i Rosa Croce tutta sta gente qua legge l'Antitrinitario tutta sta gente qua legge la parola di Dio ma non la comprende allora ci vuole il figliolo di Dio il nato di nuovo che gli spiega la parola di Dio il quale ha lo spirito di Dio e quindi Nabucodonosor non comprende questo sogno arriva Daniele e glielo spiega noi vediamo che questo sogno parte da quel momento e arriva fino alla fine dei giorni fino addirittura al giorno del Signore ovvero quando finirà il giorno del Signore che appunto il Signore tornerà per la seconda volta e instaurerà il suo regno millenare ora interessante notare che la testa era la vecchia Babilonia ora però la testa era collegata al resto del corpo quindi come dire la testa è passata ma il resto del corpo ha continuato man mano infatti poi dopo sono venuti i Medo Persiani poi che sono appunto la parte di sopra ecco perché le due braccia Medo Persia poi sono venuti il bacino rappresenta i Greci e poi le gambe l'ultima parte diciamo rappresentano i Romani che poi sorgeranno nuovamente ecco qui le dieci nazioni con le dita come oggi si sta per riconcretizzare tutto quanto con dieci nazioni che usciranno fuori poi verrà l'anticristo c'è tutta quanta la storia insomma eccetera 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 quindi noi vediamo che Babilonia la prima è finita ma verrà una seconda Babilonia alla fine dei tempi ma questo spirito della Babilonia c'è sempre stato attraverso Babilonia la grande la grande meretrice perché è finita Roma qui a Roma è proseguita un'altra Babilonia che non è più quella Babilonia di Roma ma è una Babilonia spirituale di disordine religioso ecco perché noi diciamo che qui a Roma c'è l'officina del diavolo e sarà questa Babilonia attraverso il falso profeta che darà il cosiddetto benvenuto all'anticristo così come Giovanni diede diciamo preannunciò la via dell'agnello di Dio Satana imita sempre tutto quanto ecco qui l'importanza di conoscere il passato come dicono gli storici se vuoi conoscere il presente studia il passato questo è molto importante quindi questa profezia è molto bella è meravigliosa e ci fa capire come la parola di Dio è sì ed è amè quindi quando noi troviamo le profezie della parola di Dio poniamo mente anche su quelle già avvenute perché molte di queste che già sono avvenute hanno doppio compimento ovvero quello del tempo circoscritto a quando è stata fatta la profezia e sia nei tempi futuri non tutte ma molte sì ce lo dirà poi il contesto biblico che va dalla Genesi all'Apocalisse benedetto il santo nome del Signore quindi quando leggiamo anche di Elam che alla fine dei tempi come scritto in Geremia 49 sarà distrutto attenzione perché la parola di Dio si compie sempre poniamo mente noi che abbiamo lo Spirito Santo alziamo il nostro sguardo al cielo da dove viene la redenzione come scritto appunto nel libro di Daniele che poi questa statua fu distrutta da una pietra che fu lanciata dal cielo questa pietra Cristo egli è la pietra che gli edificatori dirà poi il salmista hanno rigettato ma pur egli è la pietra è la pietra cantoniera del cantone dove tutto l'edificio regge ben saldo benedetto il santo nome del Signore quindi cari fratelli cari amici in ascolto io ho voluto portarvi intanto questa profezia sita in Isaia 21 ve l'ho voluta spiegare alla luce della stessa storia descritta appunto in Daniele capitolo 5 Daniele capitolo 5 appunto fino al capitolo 4 arriva all'impero babilonese poi dal capitolo 5 arriva a quello vedo persi e poi più avanti siccome la parola di Dio non sempre cronologica si torna nuovamente a Babilonia ma questa è un'altra storia per poi ritornare a Elam e così via discorrendo ma qui diciamo siamo come dire nella transazione tra Babilonia e impero medopersiano bene non tutti conoscono queste cose abbiamo molti giovani nella fede che non sanno queste cose noi abbiamo voluto appunto portare un pochino di profezia biblica torniamo a quello che è poi una una delle nostre caratteristiche come canale che ci contraddistingue ovvero quello di portare profezia biblica sia per quanto riguarda scatologica ovvero quella degli ultimi giorni e sia per quanto riguarda appunto quella anche già concretizzata che però a sua volta attenzione ci fa riflettere molto bene perché poi la storia si ripete si ripete la storia e questa questa Babilonia come già detto era tutta una nella statua parte dalla testa e arriva fino ai nostri giorni è interessante a proposito non ho mai sentito nessuno parlare di queste cose lo dico perché alcuni dicono che io vado in giro dicendo cose lette nei libri ma io sta cosa qua della testa collegata che arriva non l'ho mai sentita dire a nessuno scusate io devo rispondere agli attacchi delle persone che mi fanno anzi trovatemi voi se qualcuno già l'ha detto fatemelo sapere perché io non lo so non sto dicendo che l'ho detto io per la prima volta però io devo dire la verità bene cari amici in ascolto con questo non dico che non ho imparato nulla dagli altri anzi io ho avuto un pastore altro che si chiamava Estio Evangelisti e l'ho sempre ascoltato e ho imparato molto da lui altro che perché è biblico ascoltare quelli che hanno un ministerio da parte del Signore bene Dio vi benedica grazie per essere stati qui anche in questa giornata il Signore il Signore vi benedica con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti se il Signore vorrà ci si vedrà nel prossimo videoprogramma Shalom adesso renderò pubblico il 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 video pubblico ok perfetto beh e adesso io vi saluto qui è qui è qui è qui è qui è